Noi siamo garantisti per noi, siamo garantisti anche per controparte ed è questa la ragione per la quale mai abbiamo detto una sola parola nei confronti di una possibile capolista dell'EPD della quale si interessa oggi la gazzetta di Caserta. Sapevamo e siamo stati zitti perché per noi la battaglia politica si fa con la politica, i principi se sono nobili non vanno a corrente alternata e siamo rispettosi non solo e non tanto del principio generale della nostra Costituzione ma siamo rispettosi di quanto la legge prescrive sul punto in virtù di un decreto legislativo Grazie mille.